Musica Benvenuti ragazzi, io sono Gisius e oggi siamo in un video un po' particolare perchè ragazzi dovete capire che in questo periodo ci sta caricando parecchio di compiti come potete vedere non c'è Ale qui con me perchè per l'appunto non troviamo neanche il tempo materiale per incontrarci per fare il video vi porto quindi questo video particolare di questa gita che ho fatto io ad Expo naturalmente vedete i miei compagni di classe, i miei amici, i cece per esempio scusatemi ma non avevo proprio tempo di fare altri tipi di video quindi questa settimana uscirà questo video al posto della Shadowcraft perchè non ho davvero il tempo per mirarlo perchè abbiamo 4 verifiche questa settimana e se non avete ancora avuto l'opportunità di andare a visitare Expo davvero andateci perchè è davvero un'esperienza fantastica spero che vi vi piaccia e quindi da dai ciao 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 salutiamo YouPorn ciao youtube ciao 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 C'è tanta di quella gente che non potete... Ah, toh! Abbiamo fatto un padiglione! Sono la bellezza delle 13.20 Siamo entrati a mezzogiorno Quindi per farvi capire quanta gente c'era Le biglietterie, l'ingresso, il check in Io lo chiamo il check in anche se non è il check in Sì, sì, sì! Vai, vai, vai! Spendiamo il filmo! Un'altra cosa? C'è un'altra cosa? sembra un esorcista siamo fermati adesso ragazzi non so neanche cosa si sentirà di questo video perchè c'è la musica della Ferrero sopra di noi vorrei farlo fare però stiamo girando dalle tre ore ormai stiamo girando soprattutto presentiamo Loris che mi avevo anche rappresentato Di Pietri che sta giocando Clash of Clans Saluta Saluta Giovannoni che si è appena mangiato la chance un bravo Homer Simpson Homer Simpson ci sentiamo più tardi per i viaggi di ritorno si infatti no ma perchè? oh stiamo da me vai 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 ok ragazzi questa è la mia prof di matematica spero che non mi uccida perchè l'ho messa su Youtube e proprio mi deve un giro di matematica perchè è famosa bene molto da te flipper facciamo ah ah oh ci occhio l'ho ah ci occhio l'ho dai che non mi vieni eh uccise qualcuno no 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 oh saluta guardate quel pirla cosa fa? si diverte vai saluta occhio saluta i tuoi no sono qui sono qua guarda adesso vedi ciao saluta cenacolo vado a vedere il cenacolo bella viaggio di ritorno viaggio di ritorno guarda no ma non so neanche così giornata impegnativa ci siamo rotti con lui guarda guarda però vabbè dai vai sempre meglio che andare a spuola come il vero siamo fuori in milano quindi ci vuole un pochino qui è tutto da me ciao ciao lascio chiudere a al capo si è ma vorrei far saluta luce di cristo la nostra spalla vorrei far salutare qualcuno non so apparizione Danny saluta Danny ti va di salutare? no ciao bella figa bravo ciao bella pizzo no se questo ti rialza basta non parlo più ma è soffocato l'impappunto per quello l'impappunto che roba nera che è successo? l'impappunto l'impappunto il mio impappunto ha fatto morire la telecamera l'impappunto per quello l'impappunto che roba nera l'impappunto l'impappunto